buonasera a tutti spettatori appassionati sta per iniziare il match tra il pp valencia oggi in maglia gialla il anzi il pp valencia in maglia bianca il dis prima porta invece in maglia gialla partita volevole per la centurion league il match sta quindi per iniziare le squadre sono i saluti allora ancora conteso vince l'anzi in possesso ancora valencia poi c'è il fischio del direttore di gara allora può giocare il valencia l'anzi all'arga da demoforte al centro per indelicato la che si impenna viene messa giù e allora ancora valencia la conclusione tellerini è brava alza le mani e blinda alla porta corner valencia arriva la battuta al centro lunga il primo porta palla ancora in zona pericolosa e poi infine chiude bruno vediamo se riparte cerca trova il dribbling ancora bruno palla al piede allarga poi sulla corsia mancina il cross al centro può arrivare albu che calcia trova il gol del vantaggio della prima porta a marcare albu 1 a 0 lì occasione valencia l'imbucata poi salva napoli e sarà rimessa laterale e allora ancora valencia che si fa vedere nelle parti di pellirini rimessa laterale battuta al centro poi ballone di proposto cross che non parte possesso girato sul secondo è una buona palla per lemma e pellirini ancora di riflesso alza sopra la traversa corner per il valencia cross ancora sul secondo ed eccolo lo stacco di pareggio il gol è dilemma è 1 a 1 quindi in campo qui siamo ricomincia adesso il secondo tempo del match tra il prima porta e il valencia fin qui è 1 a 1 il punteggio parità quindi in campo servirà la seconda frazione di gara per andare a decidere quale delle due squadre uscirà vincitrice dal campo si gioca allora valencia a gestire con l'ansi il tocco è largo dove c'è la sorza e quindi lemma ancora l'ansi per in avanti per miniaci l'ansi ha uno sguardo ai compagni da miniaci che aggancia al centro gentili gioca su miniaci può calciare eccolo il mancino il palo pieno di miniaci salva la prima porta calcio di rigore prima porta parte marziale la palla sotto al 7 ed è quindi 2 a 1 prima porta il gol di marziale alla al centro carilino traversa arriva il fischio del direttore di gara con la battuta deviata sarà corner miniaci cerca il cuore dell'area di rigore gira gentili palla alta sulla traversa al centro c'è l'errore valencia che ricolquista con l'emma l'ansi adesso calcia l'ansi che la valencia la battuta pala forte pellerini ci arriva poi secondo tentativo e salva sulla linea bruno che poi va anche a recuperare ed è rimessa laterale comunque per il valencia forse l'ultimo pallone del match possesso pipì valencia valencia che cerca ovviamente il gol del pareggio palla quindi forte in area di rigore al buco allunga arriva carlino arriva anche il credice fischio finisce la partita 2 a 1 per il prima porta che trova la vittoria un saluto a tutti arrivederci grazie